E Katy Perry e Lady Gaga hanno entrambi ben 5 nominati The baby 3 Hands up, here suddenly we all got our hands up We can get in the gate, get in the gate, get in the gate, get in the gate, come on So zay Prima lo si impara, poi pa 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 Ho un amico Text on, I'll regret it in the mo'in' but tonight I don't Music lo stato pure Cianni ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, la musica. C'è scritto all'accadine? Vi anticipo le date dei concerti che ci saranno prossimamente, così potete subito andare con Cianni ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, così potete subito. Cianni ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, così potete subito. Cianni ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, così potete subito. Cianni ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, così potete subito. Cianni ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, così potete subito. Cianni ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, così potete subito.